Il tumore al seno è la neoplasia più diffusa nel sesso femminile ed ottobre è il mese della prevenzione. Per sensibilizzare le donne del territorio l'unità operativa complessa di Marche Nord ha proposto nel comune di Fano una semplice ma efficace operazione di comunicazione visiva, illuminare in rosa il colore dell'iniziativa due monumenti più rappresentativi della città. Detto fatto, sfida raccolta dal comune di Fano, la Fontana della Fortuna in piazza 20 Settembre e l'Arco d'Augusto, ben visibile anche dalla Nazionale per tutto il mese di ottobre, saranno di uno splendente rosa. La prevenzione è l'unica arma verso quello che è ancora il tumore più diffuso tra le donne ma che anche se preso in tempo allo stadio iniziale ha un'elevatissima percentuale di guarigione. Il 95,7%. Pertanto, come sottolinea il direttore di senologia Cesare Magalotti, di tumore al seno si può guarire. Purtroppo la paura, perché fondamentalmente la paura è la cosa che limita la donna, deve essere superata. Pertanto la donna deve imparare che diagnosticare una patologia precocemente porta guarigione e deve fare i controlli regolarmente come il medico, il medico di base, lo specialista consiglia. Non deve avere paura di niente. Se noi conosciamo la malattia riusciamo a combattela, se non la conosciamo è lì che dobbiamo avere veramente paura, per cui dobbiamo fare tutti gli esami che ci servono. L'unità diretta dal dottor Magalotti macina ogni anno più di 600 interventi al seno tra Fano ed Urbino in forte incremento. Infatti nella prima metà di quest'anno siamo già a 366 interventi eseguiti con una percentuale tra l'altro bassissima di secondi interventi, il 2,3%. Siamo a livello, tanto per capirci, di Centro Europeo dei Tumori di Milano, di Veronesi. Questa unità operativa, fortemente voluta dalla Direzione Sanitaria di Marche Nord, diretta da uno dei più accreditati chirurghi italiani, il dottor Magalotti, ha invertito anche la tendenza con un tasso di mobilità attiva del 47% con pazienti che provengono da ogni parte d'Italia. Il percorso senologico è un percorso fortissimamente caratterizzato dalla nostra direzione generale che ha creduto fermamente perché è un percorso che nasce dall'ospedale di Rete di Urbino con la dottoressa Capalbo che insieme al dottor Magalotti creano tra virgolette proprio questo percorso senologico. Successivamente la dottoressa Capalbo va a integrare questo percorso e il dottor Magalotti insieme ai suoi collaboratori di fatto creano un unicum tra l'azienda ospedaliera Marche Nord, cioè Pesaro, Fano, Muraglia e l'ospedale di Rete e dunque tutta l'area vasta. Le danze professionali della dottoressa Capalbo Grazie